Benvenuti in questo nuovo video della vita in città, che in realtà non è la vita in città, la vita sulla luna, ma volevo far la battuta, volevo farvi ridere, in realtà non faceva ridere Ma hai sbagliato, non ci vuole far ridere Quest'oggi è successo qualcosa di brutto Ovvero qualcuno ha costruito, qua, io continuo a non vedere un magazzino bellissimo Caro Marco No, Steph, c'è qualcosa di peggio, scusami È tutto distrutto Ok Che state facendo, ragazzi? Qua puoi metterci la tua arma segreta Oh, bello questo posto Io voglio Uno dei quelli storage fighi Che lo vedi e dici, cavolo Questo è proprio uno storage Facciamo una cosa, facciamo una cosa Se arriviamo a Ha uno storage super bellissimo e settimana prossima lo vedrai super bellissimo Oh, questo è una cosa bella Però non hai chiesto i like, Mark, mi hai un po' deluso Allora, facciamo così Per fare un nuovo storage dobbiamo superare il minimo i 50 mila E il 3,99 Oh, è il 3,99 Ci va sempre leggero quei like No, ma allora, Fede, se io devo chiedere mi piace Ormai tutti mi devono credere Quindi dobbiamo sempre sparare in alto Vogliono una vita sulla luna 50 mila mi piace Ah, si chiama la vita sulla luna, ragazzi, adesso Eh, boh, non si sa All'omeno nome, capisci, eh È una di quelle serie Che non sa bene il nome Comunque, gli alieni hanno attaccato la nostra madre È tutta bucata Eh, sì, sembra una grubiera Come fai a sapere che sono stati gli alieni? Beh, chi vuoi che sia E se si è spaccata da sola, tipo Io non c'entro nulla, Dio, rivederci Con una meteora Io avevo fatto tutti gli angoli, avevo fatto, vedi, avevo rifatto tutto Era bellissimo, infatti Era una figata Infatti sto consumando l'ossigeno perché è tutto aperto Sti schifosi Io ve lo dico già Andiamo a farli fuori Ma forse conviene prima riparare un po' A me non piace che siamo così poco pacifici Io non riparare Cioè, io volevo ambientarmi Siamo arrivati qua Non facciamo altro che litigare con gente Cioè, a me non piace come cosa Scusami, questi qua Cioè, arrivano sulla luna E noi siamo arrivati sicuramente prima degli alieni Ma guarda quanto è bucato il tetto Eh, tutto distrutto Guarda, non voglio essere cattivo con le parole Ma vorrei essere molto cattivo in questo momento Tutto sto lavoro buttato Vabbè, ripariamo, ripariamo Ne abbiamo vetro, sì? Io ce ne sono molto distacco Meno male Ne hai da darmi, Steph? Armi? No, da darmi Ragazzi, è scemo Nella luna si sente ancora meno Perché è l'elmetto, capite? Posso fare un jingle su Steph? Scusate Un jingle addirittura Allora, io dico, ragazzi Che non riescono a sentire bene Saranno molto il complesso di Steph Io gli regalo delle cuffie nuove Perché chiaramente con queste non ci sento Grazie Non l'avete appena cambiata? Sì, ma non ci sente con queste Vuol dire che c'è un problema Perché regaliamo le cuffiettine E se il problema fosse Steph? Dell'iPhone 6 Potrei essere anche io il problema Eh, potresti Perché io ho le cuffie uguali alle tue Ti sento Allora, ad un amico Noi potremmo regalare una visita all'Ottorino Cioè, ragazzi L'ha già fatta anche quella È quello il problema Sì, sono già andato Non vi ricordate quando ero sordo del tutto? È vero, Steph, sordo È andato dall'Ottorino Steph è uno più sordo Eh, poi l'ho ritornato No, il video mi ha fatto anche tutto il test E mi ha detto Senti benissimo Allora, penso che ti avessi detto che senti poco Anche lui non sa Raga, perché stiamo parlando degli Ottorini? Perché l'Ottorino ha bisogno dell'Ottorino comunque L'Ottorino è il mio prossimo lavoro L'Ottorino l'ha ringoia Ma l'Ottorino è un campioncino d'Ottorino? Eh, secondo me se compra Dopo questa E dopo questo direi che ce ne possiamo esatto Potete andare? Possiamo chiedere Raga, con la gravity non riesco a scendere! Devi schiacciare shift per andare più veloce Siete due pigne, guardali Nel senso, due occhio Assieme Aiutatemi Due pigne Due pigne Ce l'ho fatta Ma la pigna non ero solo io, Marco, scusami Ce l'ho fatta Oggi loro due, guarda Un po' ci sono rimasto male, raga Volevo essere io la pigna, però vabbè Ma con i pinoli pure, eh? Con i pinoli, assolutamente Eh, allora, adesso è un'ottima pigna Vendiamo nella luna Che buona Mi ha fatto venire fame, però Vabbè Pasta al pomodoro pure meno Vabbè, se passate dall'Ottorino alla pasta ai pinoli Pasta al pesto o non sai cosa ti prendi, Marco? Sì, Steph, stiamo costruendo È normale che mentre si costruisca c'è un buco anche qua Sì, sì, una chiacchierata tra amici astronauti Certo Sì, una chiacchierata goliardica, eh Ci siamo o stiamo ancora consumando ossigeno? Ah, mi sa che stiamo ancora consumando Io sto ancora consumando Dovete controllare e guardate se c'è scritto ossile Allora, ragazzi, però tutto questo consumismo anche sulla luna no, eh? No Ah, ragazzi, io sto continuando a consumare ossigeno Quindi c'è un buco che non va No, fermo, 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 fermo adesso Fammi vedere Mi affermo Aspettate Fermo È fermo anche il mio, abbiamo riparato Confermo Perfetto Vediamo se c'è scritto seal ed Questo è seal ed Vediamo questo Questo è seal ed Controlliamoli tutti, ragazzi Perché alcuni potrebbero essere non seal ed No, ma io, ragazzi, confermo Cioè Seal ed Sì, tutto a posto, ragazzi Bravissimo, raga Ce l'abbiamo fatta Bene, posso toccare la gioca Ma, va, va, anche io, anche io Anche io vi guardo Me l'ho rubato il computer Ma avete rubato il pc, ragazzi Io ho appena speso 4.000 euro per quel L'ho lanciato E dietro di te Ma tanto hanno rimandato la season, campione No, ma perché lì? No, ragazzi, non mi ricordate questo? Lasciamo perdere, lasciamo perdere Cornet prima o poi rinascerà Venite con te che doveva essere ieri l'evento? Andiamo a sparare Deveva essere settimana scorsa Andiamo Raga, perché ve l'ho sfocato? E' l'effetto dell'arma Andiamo 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 in guerra Andiamo a cacciare Ad assaltare gli alieni Tutte le parole diverse Meno male che fare è la pacifica E' ormai che devo fare Andiamo Anche non mi ascoltate Ve lo sto dicendo dall'inizio di questa Di questa nuova avventura Nessuno mi ascolta Mi ignorate Quindi ormai Avete notato Io ti ascolto Avete notato che mi ascolti Sono sempre di nuovo gli alieni Cioè non c'è mai una volta in cui ce ne sono uno C'è sempre di più Si riproducono, raga Parano i figli Che vi devo dire Sì Ho trovato dei pezzi di meteorite Fanno i figli di guerrieri No, non è vero, Stef Sì, meteorite Ah, sì È un ferro strano Non serve a niente È ferro rio Bello Allora, raga Fermi Strategia Sì Lì ci sono dei laser strani verdi Polli sono, guarda Io corro dritta, raga Dai, raga Vi laserano Io vado Ma Cosa è successo? Ce ne avete di scildini? No, scildini non ne ho purtroppo Eh, però dai Raga E' assalto dall'alto Arriva che io Raga Ho scoperto in una spedizione qua da loro Che se tu apri queste casse qui Hanno dentro dei medikit Prendi Ok Allora, questo mi hara Mi hara Vengono dall'altro lato Se riesci, non rompilo Vado io, vado io Ah, bello Ai, che male Mi sto sbalzando dall'altra parte Raga Volete combattere? Porca miseria Anche voi? Dove siamo i medikit? Io vi ammazzo tutti Eh, Fere, diamoci una calmata No Sono le cassette quelle rosse Cioè, volete combattere? Perdete tempo ad aprire le casse No, i medikit Ma t'ammazzo, guarda T'ammazzo io, altro che gli alieni Dammi un medikit, va Ragazzi, le altre medikit sono la nostra base Perché ce le avevo raccolti Solo Stefani a un'ora Ah, ok Dove lecche? No, 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 tienitelo 10 euro Anzi, 3,99 Beh, economico però Ragazzi Speriamo un attimino per la nostra base Perché L'abbiamo già abbastanza esplorato, direi Allora, ok Qua c'è un altro letto, ragazzi Io ho rubato i letti da qua Eh, prendiamo Eh, beh, sì Sì, ma hanno dato anche le carote rubate Cioè, voi siete dei ladri di alieni Io non ho fatto niente Raga, qui è pieno di pc Stef, è colpa di Marco Se ci hanno assaltato Perché li ha uccisi tutti Io posso dirvi Che mi vorrei alleare con loro In questo momento No Eh, ci starebbe No, cioè Io sento che siete voi Dalla parte del torto Anche io No, io sento che Toglio tre voi Ma se li ha uccisi tutti Di Mark Ascolta, io vado a prendere le carote Per fare la farm Ragazzi Ma questo è pipì? Questo è fewer Che cos'è? Ah, ok Sembrava pipì E come è messa lì Mi faceva un po' impressione Aspetta, controlliamo Stef, pipì No, no Non te lo ridò Ragazzi È carburante? Allora È carburante? Beh, non lo so, eh Che dite, ragazzi? L'odore non è spia Secondo voi è pipì aliena? È la pipì di Marco Sicuramente non è acido Quindi Eh, appunto Almeno quello Guarda, si sta facendo la doccia Puh, raga Marco, fa schifo Sei mappun cane Mamma mia Te l'ho detto che era la pipì di Marco Via Posso farvi una domanda? Ma come? Dai, ragazzi Io mi dissocio Io mi dissocio Io mi dissocio da questo video Cosa vuoi, Stef? Cosa ci volevi chiedere? Ma questa base Ora è nostra Sì Cioè, di fatto non c'è nessuno Eh, però se arriva qualcun altro Posso dire una cosa? Di Posso dire una cosa? Di Secondo me la cosa più utile da fare in questo momento È osservare se qualcuno viene A controllare se tutto va bene Cioè, non la prenderei subito come nostra Piuttosto la spiegerei un attimino Sì, sono d'accordo Ma come la spiiamo, campione? Eh, noi Guarda, ti dico Ti insegno una cosa Guarda verso Aspetta, verso sud Sì Ma in fondo c'è una base di quattro scalmanati Siamo noi Sì Potremmo spiare da lontano Ma non abbiamo telescopi? Mm O binoccoli Eh vabbè, ci avviciniamo E se invece noi Creassimo Una sorta di casetta Lì nella cima Della sfera E li spiiamo dall'alto E ci vedono la vedono E beh Guarda Cioè, non vorrei dire Però una casa Secondo me Non è che è proprio passi inosservata Soprattutto dopo l'ultima volta Che c'hanno distrutturato E lo so Ma così possiamo fare il video Il? Il lui Il? Mi disso Stefo, ma tu lo sai cosa No Stefo, ho pensato una cosa Dai, era una bella proposta per views Aspetta, aspetta Non vogliamo farlo Potremmo Potremmo utilizzare i blocchi invisibili Ti posso creare un bunker qua sotto segreto Con i blocchi invisibili No, i visibili non mi piacciono E torniamo alle origini Come col bunker Vi ricordate? Possiamo fare Campioni Se noi ci facciamo una base Possiamo fare Spio agli alieni Per 24 ore Vediamo cosa succede Ma mamma mia Certo che comunque Noi col timing Con SpaceX E tutto guarda Sono stati perfetti Andiamo, andiamo, andiamo Io sto salendo Qua mi faccio una base Tu vuoi fare una base Soprano Amato Cupola Ma Stefo Tu lo sai che adesso All'oro In questa cupola qua Non funziona più l'ossigeno Per colpa nostra Davvero? Perché gli abbiamo Allora Una base piccola Ma piccolina Piccolina Ma no Ma facciamola Grande tutto il perimetro L'importante è non billare nel vetro Perché tramite il vetro Noi vediamo Sì ma ci vedono anche loro Geni del male No no Fere Fere Lasciali fare Io sono d'accordo Io non sto tanto d'accordo Per me non era stupidissima Dobbiamo fare l'igloo sulla luna Fere Spio gli alieni Per 24 ore Ti rendi conto Reviews Spio gli alieni Mettetela 24 ore Esatto Ma non ci sono alieni Gli abbiamo sterminati Arriveranno Quindi spio la base degli alieni al massimo Rinasceranno No 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 Fere perché si rinascono per Per Marco 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 Confuso San te Perché rinascono gli alieni? Perché Amazon non arriva Questo sembra quando Marco veniva interrogato a scuola Ma non lo sai Io non andavo a scuola Io sono la scuola Ok Ah Bello E dopo questa ragazzi Io finisco il video senza di voi Ciao Allora no Ci serve un piano per non essere visti Mentre noi li vediamo Secondo me non c'è scusa mia Allora Steffo Sì No niente Non ho avuto una buona idea Ne penso una io Allora Se noi facciamo Ok Ho un'idea Ci vogliono di quei vetri Che tu riesci a vedere Ma dall'altra parte Non si vede niente Perché sono specchiati Esistono Esistono Come li troviamo Potremmo trovarli Magari forse nel bunker sotto qua Ci potrebbero essere No no aspettate Questa è un'idea Se io faccio così Vediamo le idee di Steff Le idee di Steff Dovremmo farci la sigla Così Allora Non mi vedono Eh si vede il tuo testone Però Allora Ragazzi Io sono qua sotto Sto simulando La vita di un alieno Lo vedi Steff Mi vedi? Oh Ma ci sono degli umani Aspettate Aspettate Torna lì Torna lì Torna lì Dai Sono qua Aspetta Non mi sparare D'annato schifo Mi vedi? No metà vita Ho metà vita No raga 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 Dobbiamo finire il video così Perché? Perché in questo momento Ho 23 vetri 23 carotine 17 rubini E 17 di un blocco Ok Ragazzi Ed è tutto in fila No Sono caduto Io mi sono buttata Ero stanca di stare lì sopra Secondo me gli alieni Ci stanno guardando Da qualche parte Con le telecamere Ma questi sono proprio studi Sono gli alieni Che ci sono spiando Da 24 ore raga Ve lo dico io È il contrario infatti Non è il contrario Va bene Esatto Mi mangio un pollo Perché un pollo? Boh Ah quello che avevamo fatto fuori Anch'io ho famissima Me la sono ricordata Quel famoso pollo Esatto Ho capito Mangia questo Raga Ci fermiamo così Per questo video Ciao Spieremo gli alieni Scopriremo i veri loro segreti Scopriremo cosa sanno fare Cosa non sanno fare Come fanno A far la pipì Gialla brutta Tutte queste cose Veramente inutili Sotto come sempre Come in altri video Iscrivetevi al canale La cappellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 Ciao